È stato facile. Hai sentito? Parlava con te. Fate come se non ci fossi. Ah, il palazzo! Questo mondo ormai è marcio. Di questo passo... E' attiva, Sua Eccellenza, il palazzo! Il palazzo, il palazzo! A che cosa serve quella corda? Non ha importanza. Dove ero rimasto? Il, 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 pala, 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 Sua Eccellenza, il palazzo! Questo mondo ormai è marcio. Love, 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 love! E per fermare l'avanzata della corruzione è necessario riportarlo sulla retta via, però... Evviva, Sua Eccellenza, il palazzo! Un amore esplosivo, Sua Eccellenza! Questo mondo deve essere riportato sulla retta via. Ah, quanto lavoro oggi! Però, anche se io conquistassi questo sudicio mondo i suoi stolti abitanti non si piegherebbero alla mia volontà, quindi cominceremo da qui. Ma è del tutto inutile affannarci. Meglio procedere sempre con il massimo della prudenza. Senza avere fretta. Questo progetto non richiederà mai particolari fatiche. Il passo verso un mondo ideale. Il nostro obiettivo sarà... Conquistare la città! La conquista! Il grandioso ideale che riempie d'orgoglio! Che figata, Sua Eccellenza, il palazzo! Io, Axel, per voi sarei disposta a fare qualsiasi cosa! Bruciare! A negare! Per voi sarei disposta a denudarmi? Comunque non è il comando! In qualità di agente dell'Akros! E di fanciulla il cui fiore non è ancora stato colto da nessuno, vi prego! Fate l'amore con me, Sua Eccellenza! Fate l'amore!